Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'incarico o sfida di recuperare abbastanza lingotti da poter assoldare un personaggio. Ora, non vi è un luogo ben preciso dove recuperare lingotti perché i lingotti possono essere ottenuti aprendo forzieri, distruggendo specifici oggetti o eliminando i giocatori. Oppure aprendo le cassaforti che, diciamo, compaiono in gioco in modo random. Il mio consiglio è quello di, diciamo, aprire i forzieri. Ne potete trovare tantissimi qui al Cinema Drive-In, qui, in questa zona qua, e così recuperate i lingotti. Nella mappa di Fortnite ci sono svariati personaggi che potete assoldare. Uno di questi si trova a Cascina Casciotta, che praticamente è qui. Vedete? Non potete sbagliarvi. Una volta che entrate, parlate con il personaggio Monkey, selezionate questa opzione, confermate e, come potete vedere, con i lingotti il vostro personaggio vi seguirà e vi difenderà.